Se volete acquistare i crediti passate dalla FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con un ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 5% di sconto troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli per ultimi iscritti per ultimi, bentornati su GIOVISPO io sono GIOVISPO e siamo qui con questo video, con il quarto episodio della serie Rotoglory nel terzo episodio vi ho lasciato un punto di dolore attivo e oggi, in questo video, saprete come è andato il risultato finale della partita vi ricordo che stavo perdendo 2-0 dunque è arrivato il momento di scoprire il risultato dunque, il prossimo che state vedendo è il gol mio, segnato con D'Alessandro un 2-1, quindi fa ben sperare per una rimolta ma invece non è così perché qui c'è questo fallo non fischiato perché, non lo so perché, gli altri qua non fischino più i falli e quindi 3-1, arriva anche il 4-1 al novantesimo è partita completamente chiusa quindi, perché aveva scommesso una mia vittoria, una mia rimolta purtroppo non è stato così purtroppo non si può sempre vincere ed è giusto però, 4-1, Kisling, veramente era una bestia in questa partita comunque, ora sono qui a fare qualche aggiustamento nella formazione, naturalmente mettere qualcuno come vedete, Richards è l'unico terzino destro che veramente è tipo un motore ha, aveva 66 di forza fisica ragazzi, 66 di forza fisica non si è infortunato proprio durante la partita o è perché non ha corso proprio o è perché è veramente resistente, Richards come se sino adesso sarebbe buono da provare soprattutto per tante tante partite secondo me, anche tutte di fila comunque, la prossima BBVA abbiamo Pac in attacco, gli esterni, Deleufeo e Amnarabat Cioci, Cerci, Cdc non li conosco poi la difesa è composta da, dovrebbe essere De Marcos Miranda, Enigo Martinez e Fabio Contrao e in porta abbiamo Terzeghen il portiere del Barcellone il primo gol arriva con Lucatoni che la piazza alle spalle di Terzeghen è veramente Lucatoni è strano, strano e forte aggiornati, vedete qui fa la doppietta altre volte non fa niente come li gira? arriva anche il 3 a 0 con Metel Cdc interista per dirla bene poi un 3 a 1 di Bacca ma c'è anche Keita ha un po' di gloria anche per lui questa volta un gol un altro gol di Bacca bello, questo è bello sotto l'angolino sotto il 7 si dice il 3 a 2 di 4 a 3 scusate di Cerci il migliore in campo è stato Lucatoni come l'ho detto va aggiornato in questo FIFA molti giocatori vanno aggiornati purtroppo ecco se non si può fare niente purtroppo scusatemi ora state vedendo un po' di queste azioni ma ho perso la partita successiva quella di prima ed è finita con una mia sconfitta ora vedrete questa partita che è già iniziata sull'1 a 1 scusate se non vi ho portato anche il pareggio il mio gol e il gol del mio avversario ma purtroppo ho dovuto riavviare il computer è andata persa la clip della mia sconfitta la partita di prima cioè la partita prima di questa comunque è il 2 a 1 arriva con Medel con un colpo di testa il portiere va a far fallo in questo colpo di testa poi c'è questo Quero si chiama così si ragazzi questo Quero mi ha fatto dannare in questa partita perché non lo so è un colombiano argento ma è fortissimo non lo so dovrebbe essere argento è velocissimo comunque questa partita viene così sigillata con il 4 a 2 però c'è ancora un gol di Quero che poi sarà anche il migliore in campo a fine partita un altro gol di Sao Sao e Quero diciamo si sfidava una distanza perché segnava di più Sao 1,6 Quero 1,7 avete visto avete fatto un bel po' di gol comunque mi mancavano mi sa un punto per la vittoria del titolo ottengo una vittoria dunque si va alla divisione 8 e si aggiungono 3.000 credit ora è stato per vedere quello che ho combinato in sostanza ho modernato la squadra ho cambiato radicalmente da una serie A sono passato a una BVA ho venduto i giocatori della serie A come è stato per vedere ho comprato Luce chi è quello? Diawara Bueno Michela González Musacchio se state vedendo vi faccio vedere gli altri acquisti Diop come cdc e poi ho acquistato anche Antunes ho acquistato Nihom il terzino destro Antunes sul sinistro ho acquistato Amrabat e quell'altro chi era? come si chiama? Feguli e poi nel prossimo episodio vedrete l'ultimo giocatore che ho acquistato ovvero il portiere e poi farò vedere il quadro completo della squadra e il modulo già si sa il 4-1-2 1-2 con cui vedrete nel prossimo episodio come sarà andata la prima partita in divisione 8 con questa nuova squadra dunque vi invito vi esorto a dirmi che modulo adottare ho iniziato con 4-1-2-1-1 ma voi decidete ditemi i prossimi acquisti visto che mi sono rimasti circa 6.000 crediti e dunque se il video vi è piaciuto naturalmente vi esorto a lasciare un bel pollice all'insù iscrivervi al canale se non siete già iscritti qui Giovis Poi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti